Noi siamo qui in consolato oggi per una cerimonia molto semplice ma altamente simbolica che vuole ricollegarci agli affetti, ai sentimenti, alla solidarietà, alle angosce di quanti hanno così tremendamente sofferto e ancora lo stanno soffrendo, stanno soffrendo un atto terribilmente barbarico, violento, incomprensibile in umano alle persone che hanno un senso comune dell'esistenza. La ringrazio di questa opportunità di riflessione perché insieme al senso della memoria credo sia importante collocare direttamente la dimensione del rapporto fra Italia e Stati Uniti. Il Presidente del Consiglio dieci anni fa, e l'ha ripetuto ancora nell'ultima comunicazione che ha mandato nelle ultime ore il Presidente Obama, ha affermato che tutti noi ci sentiamo americani, ci siamo sentiti in quel momento, continuiamo a sentirci oggi e condividiamo la stessa sensazione di appartenere alla stessa comunità di valori e alla stessa famiglia di persone, di esseri umani, di persone che appartengono alla stessa cultura. Quando ci sono episodi come quello di oggi che ha colpito ancora in Afghanistan, 50 militari italiani insieme a 18 militari afghani e via via quando purtroppo nel tempo questi episodi si sono ripetuti. Ma cos'è effettivamente che ci impone e ci suggerisce, ci fa ritenere conveniente e opportuno guardare al futuro? Cioè perché questa commemorazione del decennale deve essere soprattutto un gesto, un atto di fiducia verso quello che Italia e Stati Uniti e tutti i partners della comunità internazionale che sono più vicini a noi, ma anche quelli che non essendo tanto vicini forse cominciano a nutrire nelle loro società i veri germi della libertà e della democrazia, ecco cos'è che ci fa sentire sempre più impegnati nell'affrontare queste sfide. È esattamente la sensazione che le scelte che sono state prese dall'amministrazione Obama in questi ultimi anni, la scelta del multilateralismo, la scelta di lavorare insieme ai partners su un piede di di eguaglianza e di rispetto reciproco e non di subalterneità dell'uno o di non ben individuata leadership dell'altro. Ecco questo senso di vera partnership e di multilateralismo può essere e deve essere una piattaforma per ampliare i nostri valori, per favorire la crescita economica dei popoli che soffrono di questi fenomeni di estremismo e di intolleranza. Questa credo che sia una riflessione forse di carattere generale, di termini forse un po' di pensiero generale, ma mi pare che abbia anche dei contenuti molto concreti. Dobbiamo ricordare che nell'immediata sequenza dell'11 settembre la reazione internazionale è stata immediata ed è stata una reazione di legittimità. Il giorno dopo l'11 settembre una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ha chiesto a tutti gli stati delle Nazioni Unite di condannare severamente i colpevoli dell'attentato, di impegnarsi per individuarne i responsabili e di muoversi per contrastare in tutti i possibili modi la realtà del terrorismo internazionale. Quello è stato il primo atto con forza legislativa che il supremo organo delle Nazioni Unite ha proposto alla comunità internazionale per inquadrare tutti quegli interventi di natura militare, umanitaria, di sviluppo, interventi combinati attraverso missioni complesse delle Nazioni Unite nel prosieguo di quest'azione nata con l'11 settembre. E da allora ad oggi tutto questo ha avuto delle conseguenze di proporzioni grandissime. La prima conseguenza è stato un impegno molto serio di tutti i paesi del mondo a noi vicino, ad iniziare dagli Stati Uniti, a rafforzare le misure di prevenzione e di tutela delle nostre società. Gli Stati Uniti hanno fatto crescere un dispositivo bilanciandolo nelle sue componenti legali che dovevano tener conto delle libertà individuali, della privacy, del rispetto delle garanzie giurisdizionali e processuali delle persone che vengono considerate coinvolte in atti di terrorismo. Uno sforzo grandissimo che ha portato alla creazione dell'Homeland Security Department con oltre 230 mila addetti, ha portato alla creazione di agenzie di coordinamento dei sistemi di intelligence, alla creazione di un Director of National Intelligence e ha portato anche all'individuazione di strumenti particolarmente efficaci e che sono fra l'altro strumenti che probabilmente non hanno ancora dato tutti i risultati che ci potranno essere con un approfondimento della concertazione internazionale in questo settore e mi riferisco alla creazione all'interno dei Ministeri del Tesoro e dell'Economia di strutture apposite per l'individuazione dei flussi finanziari che alimentano il terrorismo. Sapete che siamo in un ambito, in una galassia molto ampia di sostenitori finanziari mascherati sotto finalità di beneficenza, di charities, di servizi sociali che molto spesso confluiscono in attività completamente diverse, in attività insurrezionali, di insorgenza, di traffico anche legato a criminalità comune. Ecco, il poter controllare la legittimità dei trasferimenti finanziari e l'aver stabilito una concertazione internazionale molto solida e crescente in questo settore è stato oggetto di un seminario al quale ho partecipato solo due giorni fa, presieduto dal segretario del Tesoro Geithner, nel quale appunto sono state scambiate esperienze e nel quale si è trovata il passo, il senso della necessità di continuare in questa direzione. Cito questo esempio, ce ne sono altri naturalmente che riguardano la creazione anche di cooperazioni internazionali fra stati per allargare l'ambito della cooperazione a paesi che qualche volta sono parsi più riluttanti, più arretrati nell'impegnarsi a fondo nel contrasto al terrorismo, ma questo è per dare il senso della grande attività che abbiamo in questo campo e delle prospettive serie e positive che abbiamo di affrontare queste sfide ancora.